Il Cammino del Sole, questo è il nome del progetto proposto dall'Associazione Diabetici Provincia di Brescia per coloro che hanno il diabete di tipo 2. L'opportunità di percorrere il pellegrinaggio del Cammino di Santiago de Compostela in totale sicurezza, affiancati dal personale medico-sanitario, ma anche condividendo questa esperienza con altri pazienti. Sì, naturalmente l'invito a partecipare a questo progetto molto importante e molto bello, e poi fatto in tutta sicurezza perché siamo appoggiati da specialisti veramente in gamba, è di invitare. Invito già chi è socio diabetico tipo 2, che è socio dell'Associazione. Chi è diabetico e non ancora socio può associarsi perché per partecipare bisogna essere associati. Sono 15 ero l'anno, quindi è veramente io spero che capiscano l'importanza del movimento. Questa è un'occasione che diamo perché camminando, oltre a socializzare con gli altri, ma sono sicura per esperienze già fatte, che il risultato sarà ottimo. E quindi è una molla che può far cambiare stile di vita alle persone troppo sedentarie. Il movimento per il diabete tipo 2 è basilare, sia come prevenzione, come cura, proprio come cura di questa patologia molto seria ed importante, che dopo passare degli anni si aggrava. Sì, il diabete tipo 2 è una malattia estremamente frequente. Consideri che solo qualche anno fa si diceva il 3-4% delle persone, della popolazione generale, è affetto da diabete. Attualmente abbiamo già raggiunto l'8% fino al 10% se consideriamo chi non sa di avere la malattia. Quindi parliamo di veramente numeri di decine, di migliaia di persone. C'è però questa bella opportunità che avete lanciato oggi, questo progetto, dove queste persone possono percorrere questo percorso in totale sicurezza. Sì, io penso che l'intuizione di Federica Cottini abbinata alla possibilità di avere il supporto dell'Associazione Diabetici e un nostro contributo come sanitari abbia creato una sinergia e una proposta veramente particolare che riunisce la possibilità di essere addestrati a un esercizio fisico terapeutico, non esercizio fisico genericamente inteso, di essere però scrinati per quanto riguarda i possibili rischi dell'affrontare un allenamento più impegnativo dell'usuale e di affrontarlo con l'obiettivo di modificare lo stile di vita, quindi di migliorare il proprio stile di vita e quindi gli esiti della cura, perché l'esercizio fisico rallenta la progressione del diabete tipo 2, è dimostrato in maniera, sarebbe la cura più potente, più forte se riuscissimo a metterla in atto. E un'occasione come questa, direi, ottime probabilità di risultare, avere molto appeal per le persone con il diabete tipo 2, che invito a cogliere questa occasione. Perché questo progetto può aiutare le persone affette da questa patologia ad imparare ad avere uno stile di vita diverso, ad approcciare il cammino come beneficio per la propria patologia, per poter poi migliorare anche la parte terapeutica della patologia diabetica. Sono pazienti che comunque sono molto sedentari e quindi imparare a fare attività fisica con continuità e con costanza può essere una cosa molto utile per la loro vita futura e per il proseguo della loro patologia. La risposta è semplice ed è scritto qua dietro. Si parte il 26 aprile e si ritorna il 6 maggio. Sono dieci giorni sul cammino portoghese che porta a Santiago di Compostela. Abbiamo preferito il cammino portoghese per delle caratteristiche tecniche di semplicità e di pendenza e anche dell'accoglienza che è veramente di qualità superiore.